Lottare contro le mafie significa non solo reprimere, ma anche bonificare, trasformare, costruire. Lo ha sottolineato Papa Francesco incontrando in Vaticano i membri della Commissione Parlamentare Antimafia. Dinanzi ai segni della crisi morale che oggi attraversa persone e istituzioni, il Pontefice ha indicato due livelli per contrastare le mafie che rubano il bene comune, togliendo speranza e dignità alle persone. Anzitutto quello politico, attraverso una maggiore giustizia sociale, e quello economico, attraverso la correzione o la cancellazione di quei meccanismi che generano dovunque disuguaglianza e povertà. Il punto di partenza, insistito, rimane sempre il cuore dell'uomo e la volontà di mettersi in discussione, perché quando ci si chiude nell'autosufficienza si arriva a banalizzare il male e a confondere la verità con la menzogna. La corruzione trova sempre il modo di giustificare se stessa, presentandosi come la condizione normale, la soluzione di chi è furbo, la via percorribile per conseguire i propri obiettivi. Ha una natura contagiosa e parassitaria, perché non si nutre di ciò che di buono produce, ma di quanto sottrae e rapina. È una radice velenosa che altera la sana concorrenza e allontana gli investimenti. In fondo la corruzione è un abitus costruito sull'idolatria del denaro e la mercificazione della dignità umana, per cui va combattuta con misure non meno incissive di quelle previste nella lotta alle mafie. Grazie a tutti.